Bentornate e bentornati alla prima lezione di l'impegno di tutti, il primo festival internazionale dell'antimafia. Eccoci qui, l'impegno di molti ieri, l'impegno urgente e indispensabile di tutti oggi. O per citare uno dei nostri ospiti della panel di questa mattina, Gerardo Colombo, ciascuno di noi può. Oggi, adesso qui inizieremo la seconda sessione del panel, dalle 14.30 alle 20, partiremo da Napoli con lo studio delle camorre per arrivare in Europa seguendo i traffici delle mafie e attraversando le nuove frontiere del crimine globale. Iniziamo quindi con il primo panel della nostra sessione pomeridiana, le camorre da Napoli all'Europa. Invito a sul palco Isaia Sales, prego qui alla mia sinistra. Isaia Sales, docente di storia delle mafie presso l'Università Sororso, la Benincada di Napoli, parlerà di come si è evoluto il fenomeno camorristico a partire dal suo nuovo libro, storia delle camorre, edito da Rubettino. Modera, Mare Portanova di Il Fatto Quotidiano, Millennium. Grazie. Allora, buonasera. Partiamo appunto dal libro Storia delle Camorre di Isaia Sales, che tra l'altro leggete anche su Repubblica come editorialista che scrive i temi di mafia e anche i temi legati al sud. Storia delle camorre. Perché, come vedete, è molto voluminoso, molto dettagliato. Questo libro racconta la storia, poi vedremo perché, delle camorre, diciamo dal 1800 a oggi. Perché è importante studiare la storia delle mafie italiane, nel nostro caso? Ma secondo me è legato anche a quello che c'è scritto lì sopra, perché l'impegno di tutti va benissimo, però l'impegno, l'attivismo anche antimafia, insomma, più è fondato sulla conoscenza del fenomeno e meglio è. E non sempre, diciamo, conosciamo davvero il fenomeno che vogliamo combattere. E la storia, secondo me, delle varie forme di criminalità organizzate italiane, invece è molto importante perché non è solo una necessità accademica di dire, come forse la storia non lo è mai, insomma, se vogliamo capire l'oggi studiamo non a caso anche la storia, però studiare in modo così approfondito come fa Isaia Sales sulle camorre e risponde anche a delle domande che sono molto importanti e che noi anche da giornalisti o da attivisti ci facciamo. Vi sarete chiesti anche voi, ma perché le mafie nascono in Italia e non in Inghilterra? E poi, ma perché al sud e non al nord? E poi magari ci diamo anche delle risposte, e vabbè, ma perché al sud, delle risposte un po' genere, perché al sud c'è quella mentalità, c'è il familismo, eccetera, però allora uno ti dice, sì, ma perché nascono, non so perché Cosa Nostra nasce in Sicilia e non in Sardegna, perché l'andrangheta nasce nel nord, nel sud della Calabria e non nel nord, e così via, perché la camorra nasce nella città e non nelle campagne come altre mafie, capite? E se noi non capiamo queste cose, poi dopo ci stupiamo quando vediamo, ma hanno arrestato 300 andranghetisti, di cui 160 in Lombardia, operazione crimine infinito del 2010, ma c'è l'andrangheta in Australia, c'è in Germania, ma cosa c'entra la Germania con Platì, con la Spromonte, ma lì in Germania non c'è mica il familismo, non c'è quella mentalità lì del sud che non vogliono lo Stato, eccetera, allora andiamo in confusione, mentre invece negli ultimi anni si è sviluppato da parte di tanti autori uno studio puntuale che serve a capire essenzialmente quali sono le condizioni che in una determinata epoca, in una determinata area geografica hanno consentito la nascita di organizzazioni criminali, ovviamente le organizzazioni criminali ci sono in tutto il mondo, ci sono nelle città europee, ci sono a Londra, ci sono a Parigi, ci sono in Cina, in Giappone, non tutte però le organizzazioni criminali si danno una struttura o si danno o comunque raggiungono una struttura che permette di attraversare addirittura i secoli, i secoli, perché qui parliamo del diciannovesimo secolo, adesso siamo nel ventunesimo, di Camorra parliamo ancora, è simile l'evoluzione di Cosa Nostra, allora cos'è la differenza tra il crimine organizzato che esiste ovunque e strutture criminali che alla fine sono così resistenti, non solo resistenti ma che crescono, si sviluppano, e studiare la storia, la storia però specifica perché non c'è una risposta unica per tutti i tipi di mafia, entrando già nel merito la Camorra, le Camorre, sono una mafia diversa da Cosa Nostra e Andrangheta perché sono una mafia urbana, le Camorre si sviluppano a Napoli città, mentre invece Cosa Nostra e Andrangheta sono mafie dei campi che poi man mano ovviamente hanno le loro evoluzioni e non è che rimangano nei campi. Oltretutto studiare la storia delle mafie è anche una materia incandescente perché ci sono anche polemiche forti, scontri fra studiosi, nel libro di Isaia Sales ci sono attacchi frontali ad altri studiosi per esempio sulla datazione, poi ti chiederò perché è così importante dire che le prime tracce della Camorra, ovviamente molto diversa da quella che conosciamo oggi si registrano già nel 1820 e 1830 e non come dicono altri studiosi intorno all'unità d'Italia quindi 1861, perché è così importante? Tenete conto che recentemente uno storico invece che si occupa di Cosa Nostra, Salvatore Lupo, è stato pesantemente accusato in televisione da un giornalista, Saverio l'ho dato e il tema era la complicità o meno, l'aiuto o meno di Cosa Nostra nello sbarco degli alleati in Sicilia nel 43, ma è stata una polemica tosta per dire non stiamo facendo accademia e queste cose sono di sostanze e ci aiutano poi, aiutano tutti anche noi giornalisti a capire quello di cui stiamo parlando, a raccontarlo e chi fa attivismo, chi fa militanza a farla in modo sicuramente più efficace. Ci sono tante tesi un po' sorprendenti perché vanno contro dei luoghi comuni nel libro di Isaia Sales, per esempio il fatto diciamo luogo comune vuole che oggi la camorra, anzi la camorra spesso ci viene raccontata come una mafia ormai disgregata, ormai fatta di ragazzini improvvisati che vanno in giro, sparano ma poi nello spazio di mesi o anni vengono alla loro volta ammazzati, rimpiazzati eccetera eccetera e quindi dà l'idea di quasi una mafia un po' allo sbando, ben diversa dalla solidità dell'andrangheta di cui invece riconosciamo, i magistrati continuano a dirci di una struttura molto solida, molto efficiente che dalla Calabria si ramifica in tutto il mondo invece Isaia Sales dice no guardate che la camorra in realtà è oggi una mafia molto potente che ha come dire fregato molti studiosi osservatori che la davano per spacciata, in realtà proprio questo modello frammentato molto diverso da Cosa Nostra, molto diverso dall'andrangheta ha fatto sì non solo che sia anche con delle interruzioni viva appunto da, viva e attiva da 100, oltre 150 anni ma, anzi ormai quasi 200 stando alla tua datazione, ma sia in realtà sempre più potente, sempre più ramificata e poi vedremo perché, anche se parliamo di una mafia che spesso Sales definisce fluida, ci sono il conteggio attualmente più di 100 clan di camorra, 180 e anche qui mentre siamo abituati a pensare a Cosa Nostra che però era una Cosa Nostra in un periodo specifico, quello diciamo degli anni 80 e fino all'epoca delle stragi, in cui c'era una cupola, c'era un capo totodina, questo attualmente nella camorra non è vero e quindi non c'è un signore o un gruppo di signori che domina 180 clan, però questo non vuol dire neanche che siano 180 monadi che vanno per conto loro perché sennò non sarebbero particolarmente forti o preoccupanti. Uno degli aspetti più, secondo me, più interessanti del libro di Isaia Sales, ecco dicevamo prima, bisogna capire, è importante capire come mai le mafie si sviluppano in determinati contesti, perché? Proprio anche perché questo serve prevenire il fatto che magari si sviluppino come è accaduto in questi anni anche in altri contesti diversi, nel nord, all'estero, in Europa, eccetera, eccetera. Insomma, questo libro ci fa vedere l'intreccio fra la storia di una città, le storie e le caratteristiche di una città particolare, unica al mondo, Napoli, di cui da ieri notte sentiamo anche parlare tanto, e la storia di questa criminalità, con immagini e considerazioni molto suggestive, per varie ragioni storiche, poi ne parlerai, Napoli è caratterizzata da un enorme sottoproletariato che a un certo punto non ha, scrive Sales, poi correggimi se è approssimo troppo o se, non ha altra forma di emancipazione, a differenza magari di quello che avviene in altre città europee, non ha alcuna, quasi, alcuna altra forma di emancipazione se non l'illegalità, l'attività illegale, l'attività criminale, che non è la stessa cosa, e quindi c'è una sorta, si crea negli anni, poi ci sono le varie tappe, ma ne parleremo, anzi le racconterà lui, una sorta di illegalità diffusa, illegalità di massa, che è in relazione con questo mondo criminale. Quindi, ecco, un'altra cosa interessante a distinzione che Sales dice, l'altra caratteristica camorra è una mafia che nasce dal sottoproletariato urbano, mentre sappiamo che la storia di Cosa Nostra per esempio è diversa, i campi nobili, i possidenti terrieri appunto, l'andrangheta mafia che nasce super rurale in paesini che ancora oggi sono isolati, arroccati, eccetera, eccetera. Sales usa gli strumenti di analisi della sociologia, parla di riecheggia Mars quando leggiamo di esercito criminale di riserva, uno dice, ma la camorra così violenta, si sparano, c'è il racconto, poi ne parleremo, impressionante della guerra di camorra che vede protagonista Cutolo e dall'altra parte la nuova famiglia, che è una guerra, i morti sono mille, parliamo mille morti vuol dire avere eserciti di quante persone, sono eserciti e la spiegazione, ma com'è possibile anche solo poter reclutare, poi Napoli è una grande città, ma non è città del Messico, non ha 20 milioni di abitanti voglio dire, quindi ecco questo esercito criminale di riserva che non ha anche lì altro meccanismo, secondo l'analisi di Sales, di emancipazione se non i vari gradi di illegalità che possono cominciare dalla vendita abusiva nel vicolo e fino al grande spaccio di droga, all'omicidio, eccetera, eccetera. Anche, ecco, ci sono tanti termini suggestivi, gangsterismo sociale, no, io non l'avevo mai sentito, è molto interessante. Adesso faccio parlare subito lui, la cosa interessante di questo libro è che sottolinea quali sono gli snodi storici di cui adesso parleremo, che trasformano una prima camorra molto, come dire, ovviamente naif quasi, poi a un certo punto arriva il personaggio del guappo, la camorra anche raccontata da commedie, da film, eccetera, eccetera. Racconta le origini ottocentesche, appunto, poi la borsa nera della seconda guerra mondiale, qui dà una grande importanza, poi ne parliamo. C'è un capitolo e uno spazio riservato al contrabbando di sigarette, perché quella è veramente una cosa, un aspetto esemplare, perché non so chi si può ricordare ancora quegli anni, gli anni 70, 80, in cui veniva dato per pacifico e per scontato che una massa di persone di una città importante come Napoli vivesse di un'attività illegale e addirittura era anche un'attività rivendicata. Nel libro si fa vedere un manifesto, oggi noi contrabbandieri ci ritroviamo in aula a tal dei tali alle ore per protestare contro la guardia di finanza che è un po' troppo negli ultimi tempi ci perseguono, i famosi motoscaffi blu, eccetera. Quindi sono storie proprio non tanto comuni. Però poi le sigarette diventano droga, dipende molti più soldi. Poi arriva il terremoto del 1980 in Irpinia, ma che ovviamente coinvolge anche Napoli, sono gli anni di Cutolo. C'è la grande storia nella storia del sequestro dell'assessore Cirillo da parte delle Brigate Rosse con Cutolo e la Camorra che vengono scelti dallo Stato come mediatori per salvare di fatto l'assessore. Ovviamente questa è una storia che stride in modo lancinante con la parabola di Aldo Moro, un'altra levatura era, e poi arriviamo ai giorni nostri, la Camorra che noi abbiamo visualizzato negli ultimi anni in Scampia, nel grande mercato di droga, ce l'ho aperto, nelle paranze dei bambini, nelle stese. Questo è a grandissime linee, sono quasi 400 pagine, il prezioso libro, cioè uno di quei libri che quando hai finito di leggere dici beh, ho capito tante cose che prima non sapevo. Allora, prima di passare Isaia Sales alle domande che mi ero preparato, ovviamente questa notte mi è venuta in mente un'altra, abbiamo visto in questi giorni anche non solo le feste di ieri a Napoli per la vittoria dello Scudetto annunciata da tanto tempo, ma anche tanti preparativi, si preparavano le bandiere, gli striscioni, i murales, le feste eccetera. Visto che tu racconti, ecco la mia domanda non è di prevenzione, perché tutto è Camorra, altro errore che spesso si fa quando si parla di mafia, tutto è mafia, qualunque aspetto, però visto che tu racconti di una criminalità molto innervata nel tessuto urbano, spesso non distinguibile dall'economia lecita, l'economia illecita, la grande criminalità diventano poco distinguibili. Secondo te ha partecipato in qualche modo la Camorra o le Camorre a questi preparativi, ha avuto un ruolo nelle feste, in queste feste. Buonasera, grazie per l'invito, è ferita aperta questa, nel senso che il mondo del calcio è in gran parte in mano ai violenti dal punto di vista del tifo, quindi se dovessimo parlare del ruolo nel tifo napoletano della Camorra dovremmo parlare del ruolo del tifo sollecitato da Andrangheta a Torino con la Juventus, il ruolo degli spacciatori di droga a Milano nel tifo del Milan o dell'Inter, eccetera. C'è un problema serio di come tieni a bada la violenza nel mondo del calcio e nei rapporti tra società e tifosi. Bisogna dire che a Napoli dell'Aurentis ha tentato di non dare a loro il monopolio dell'organizzazione del tifo nello stadio e questo ha creato dei problemi tra dell'Aurentis e alcune france del tifo. Se altre società di serie A avessero fatto quello che ha fatto dell'Aurentis a Napoli forse non avremmo avuto gli stessi problemi. Ma proprio perché a Napoli il mondo illegale, il mondo criminale e il mondo mafioso sono tre mondi in cui il confine è molto labile, sicuramente è probabile che qualcuno di quel mondo abbia partecipato, che qualcuno di quel mondo abbia cercato di avere il monopolio su alcune attività di vendita di bandiere, di magliette e quant'altro. Ma voglio dire più un tratto fisiologico del tifo comune alle altre città che un tratto patologico. La vittoria del Napoli è frutto della grande bellezza del gioco di Spalletti e dell'occasione che si è creata di avere fatto degli investimenti nel tempo e di aver trovato un buon manager che ha scovato delle pelle preziose in giro per il mondo e di un grande allenatore. Tutto il resto, secondo me, forse è bene non sopravvalutarlo. Benissimo. Allora, entriamo nel merito del libro. Tra l'altro, come forse sapete, anche qui a Milano quel tipo di criminalità che Sales citava rispetto alle tifoserie, agli oltradi Milano e in Inter, tante inchieste le mettono anche in relazione con importanti esponenti dell'Andrangheta, quindi questo è forse un tema a sé stante. Allora, cominciamo. Da tanti anni siamo abituati a sentire parlare di mafie, mentre prima si parlava semplicemente di mafia. Io onestamente, lo dico, non ho mai sentito parlare di camorre invece di camorra. Poi ho scoperto che tu l'avevi già scritto in un libro tanti anni fa. Perché dobbiamo parlare di camorre? Ci sono più camorre, hanno caratteristiche diverse? Noi per anni abbiamo quasi visto il tema mafia collegato con cosa nostra. Abbiamo quasi percepito negli studi un'esclusività. È mafia solo ciò che avviene nel mondo criminale siciliano? È mafia solo quello che avviene in Sicilia? Fuori dalla Sicilia non si può dare questo nome o se si dà è un fenomeno criminale secondario. Ecco, io penso che ciò non ci ha aiutato a comprendere il fenomeno mafioso. Il fenomeno mafioso non è un fenomeno che è caratterizzato dalla sua territorialità. Cioè ci possono essere fenomeni mafiosi fuori dalla Sicilia, fuori dalla Campania, fuori dalla Puglia, fuori dalla Calabria. Perché il fenomeno mafioso è caratterizzato da questo dato, l'uso della violenza come potere permanente. Cioè se ci sono dei criminali che usando la violenza ne ottengono un potere stabile sul territorio e nel tempo, ciò è un fenomeno mafioso. Ecco perché non siamo riusciti a dare il nome di mafia a quello che avveniva a Roma. Ecco perché abbiamo difficoltà a definire mafia ciò che avviene in altre parti d'Italia, fuori dal sud. Perché anche noi, anche noi nel mondo degli studi, abbiamo ritenuto che tutto sommato il fenomeno mafioso avesse a che fare con qualcosa dei nostri geni, che avesse a che fare con qualcosa di specificamente meridionale. In Sicilia c'è di più. Avendo la mafia commesso una serie di delitti politici impressionanti che nessun'altra mafia al mondo, tranne i narcotrafficanti, hanno mai realizzato, ecco c'è stata una esclusività del fenomeno mafioso legato alla Sicilia. A mio parere la mafia siciliana rappresenta una originalità del fenomeno mafioso, ma non un'esclusività. Perché prima della mafia siciliana si sono realizzate altre mafie in Italia, si sono costruite altre mafie. Per esempio, dal punto di vista storico, è indubbio che la Camorra viene prima della mafia siciliana. Noi abbiamo notizie della mafia siciliana attorno agli anni 40 dell'Ottocento, abbiamo notizie della Camorra napoletana già nel 1820. C'è di più molte parole che qualche siciliano tra di noi non se la prenda, anche quando con alcuni amici storici siciliani parliamo di queste cose, ma dico ma anche le parole adesso ci volete togliere. Per esempio la parola pizzo è una parola napoletana, non è una parola siciliana. Noi abbiamo ragionato per anni sul fatto che il pizzo avesse a che fare col becco di un uccello che beve. Non c'entra niente. Il pizzo è addirittura scritto in un libro, I mafiosi della vicaria, un libro del 1862-63, in cui il pizzo è il termine napoletano, mettiti in quel pizzo, cioè mettiti in quel piccolo posto, cioè quando si finiva in carcere c'era uno che controllava il carcere, che in genere era un camorrista napoletano, che assegnava il ruolo nel carcere a chi arrivava, cioè mettiti su quel giaciglio, mettiti in quel pizzo. Quindi la parola pizzo è una parola napoletana, non c'entra niente la Sicilia. La parola omertà è una parola napoletana, non c'entra niente il concetto di ominità, cioè se tu non parli sei uomo, per cui sei uomo d'onore se non parli con la polizia. Omertà viene da umiltà, la parola napoletana umiltà, che è tipico delle associazioni segrete, che non vogliono che si riveli all'esterno quello che fanno all'interno, altrimenti che organizzazioni segrete sarebbero. E quindi l'umiltà è l'obbedienza ai capi, compreso il fatto di non rivelare all'esterno una serie di cose che si fanno all'interno. Addirittura la stessa parola picciotto è una parola comune al napoletano e al siciliano, perché c'è una canzone napoletana che io nel libro cito, volesse davantare un picciotto, cioè vorrei diventare un piccolo, un ragazzo, vorrei tornare ragazzo per fare la corte alla mia amata. Insomma, la verità storicamente è semplice. Nel regno borbonico, nelle carceri, comandavano i napoletani, perché erano di più. E dove si incontravano i napoletani siciliani a calabresi? Si incontravano solo nelle carceri e nell'esercito. E lì sono nate le prime organizzazioni mafiose. Prima quella napoletana, e sono intervenute in un lasso storico particolare. Io perciò mi arrabbio quando sento dire la mafia è già nel 200, i Vespri siciliani. La Camorra è già nel 300. La Camorra esisteva già al tempo di Massaniello. Sono sciocchezze dal punto di vista storico. Perché se dovessimo prendere gli episodi di violenza nel corso della storia, per esempio c'è uno storico napoletano che dice la Camorra è del 300 perché alcuni nobili, in un momento di crisi della città, c'era una cristian città, vanno ad assaltare una nave genovese. E lui dice che questa è l'origine della Camorra napoletana. E io gli rispondo nel libro. Ma allora Francis Drake era il capo della mafia mondiale, cioè se per essere mafiosi bisogna andare a assaltare una nave, gli inglesi dovrebbero avere il monopolio, gli olandesi, i portoghesi dovrebbero avere il monopolio delle mafie nel mondo. Oppure che Massaniello era un camorrista, ma non c'è niente di storico. Anche Barbero, che è uno storico che io rispetto e stimo tantissimo, si è lasciato andare anche lui a cose di questo tipo. bisogna dare un tempo storico alle cose. Le mafie sono nate alla fine del feudalesimo e sono una continuazione sotto un'altra forma di fenomeni feudali. Tanto è vero che il feudalesimo è finito nel 1806 a Napoli e nel 1812 in Sicilia. E contemporaneamente alla fine del feudalesimo si sono manifestati dei fenomeni mafiosi, perché il mafioso unisce le stesse caratteristiche del feudatario, il potere istituzionale, fare leggi e fare soldi. Cioè avere nella stessa persona la ricchezza, l'amministrazione della giustizia e un ruolo istituzionale. Il mafioso è una continuazione di questo aspetto. Per cui noi dobbiamo metterci d'accordo sul fatto che non esiste un fenomeno mafioso esclusivo di una regione, che dal punto di vista storico i fenomeni mafiosi sono tutti a ridosso della fine del feudalesimo o della mancata soluzione del feudalesimo. Tant'è vero che tutti i paesi al mondo che hanno problemi di mafia hanno conosciuto un ritardo nella fine del feudalesimo. Cioè la Cina, il Giappone, la Russia, l'Italia, i paesi latinoamericani. Non è un caso che è avvenuto tutto ciò. Quindi diamo una dimensione storica a questi fenomeni. Nessun siciliano si offenda se uno gli dice guarda che la camorra napoletana ha cominciato prima, erano di più e in carcere in qualche modo imponevano la loro legge. Voi immaginate, non so se avete visto un carcere borbonico, era una cosa come questa in cui tutti stavano a terra e praticamente con un giaciglio di paglia e c'erano i politici e i comuni insieme. Qual è la circostanza storica che fa cambiare rispetto a Parigi e a Londra questo ruolo dei criminali nelle carceri, che anche lì comandavano le carceri? Il fatto che in carcere incontrano i massoni e i carbonari. Cioè incontrano delle persone che hanno commesso delitti in nome degli ideali. E in carcere, nello stesso stanzone dove vivono, hanno visto che questi fanno dei riti di iniziazione, parlano in un certo modo. E quindi che cosa è successo? La fine del feudalesimo si è incontrata con l'incontro del crimine con la massoneria e con la carboneria. Questo è un fatto che spesso viene trascurato, che non vuol dire che la carboneria e la massoneria sono mafie, ma gli hanno dato il modello. Cioè quando un criminale si convince che quello che fa è dettato da nobili ragioni, diventa mafia. Allora, innanzitutto confermo perché quando ero piccolo, mia nonna napoletana mi diceva non sederti in pizzo al letto, non sederti in pizzo alla sedia, eccetera. Adesso scopro l'origine carceraria di questa prescrizione. Stiamo ancora un attimo sull'Ottocento, poi dopo andiamo avanti. Perché c'è un'altra cosa molto importante che scrivi, questa doppia legittimazione della camorra. Dal basso, dal popolo che riconosce la camorra man mano come regolatrice, anche della se no ingovernabile da qualunque autorità, vita del basso e poi del quartiere periferico, dove lo Stato non c'è, eccetera, eccetera, ma anche la legittimazione da parte dello Stato. Abbiamo detto in tante epoche, abbiamo detto il contrabbando anche è accettato, ma viene molto prima e c'è anche uno snodo intorno al 1861, proprio mentre si fa l'unità d'Italia, quando la camorra diventa addirittura, viene riconosciuta e impiegata dallo Stato di allora, dai Borbone, per l'ordine pubblico. Questo è uno snodo importante, se ho capito bene. Assolutamente, i mafiosi debbono la loro legittimazione verso il popolo e verso le classi alte, dal fatto che loro mantengono un ordine nel disordine, cioè mantengono un ordine nel mondo criminale. Essendo loro un'elite, in linea di massima, governano i criminali che non hanno capacità di rendersi conto con chi hanno a che fare. Cioè una cosa è la violenza, come dire, la violenza senza freni di un criminale qualsiasi e una cosa è la violenza disciplinata. I mafiosi provano a disciplinare la violenza. Quindi loro sono strutture criminali d'ordine nel disordine. D'altra parte non ci meravigliamo, perché così nasce la polizia moderna. Vi ricordate Balzac che fa di un grande criminale, voglio dire Vittorio Hugo, raccontano i miserabili di un criminale che diventa capo della polizia. La polizia si forma così. La polizia e gli eserciti si formano in questo modo. Chi ha competenza con le armi e chi ha competenza di violenza. Quindi anche la polizia e gli eserciti a loro modo sono persone che disciplinano la violenza, la mettono al servizio di una finalità, quella della tenuta dell'ordine pubblico. In Sicilia il ruolo della mafia nel tenere tranquille alcune zone è fondamentale. La popolazione è legittima per questo, cioè dalle nostre parti non si ruba. Se non c'è il consenso di... Se succede qualche episodio fuori dal comune, insomma, in una delle novelle più belle di Verga, che si chiama La chiave d'oro, il ruolo di disciplina da parte delle mafie è fuori dubbio. Quello che viene ammazzato dal mafioso è un piccolo ladro di arance, ma il mafioso dice al prete che si meraviglia che lui l'ha ammazzato per delle arance, ma se non diamo l'esempio che laddove comando io non si ruba, che mafioso sono? Non dice mafioso, ma più o meno dice questo. La mafia ha giocato verso il basso della società il suo ruolo nella disciplina della violenza incontrollabile. A Napoli, quando arriva Garibaldi, viene da Salerno, viene in treno, l'ultimo prefetto borbonico non sa che fare, perché ogni qualvolta c'è un cambiamento di regime a Napoli e scoppia un disordine per giorni e giorni. Allora lui chiama il capo della Camorra, Torre Crescenza, e gli chiede di tenere l'ordine pubblico mentre Garibaldi arriva a Napoli. Quindi noi siamo ad un caso storico accertato, nelle memorie di Liborio Romano questo viene scritto, in cui dei delinquenti svolgono funzioni di ordine pubblico. Cioè nel finale di Arancia Meccanica trovate qualcosa di simile. Questa funzione d'ordine è una funzione che legittima le mafie dal basso. Ma verso l'alto, come si legittimano le mafie? Anche qui, attenzione, in linea di massima, uno Stato moderno ha il monopolio legittimo della forza. Gli Stati moderni nascono esattamente per questo. Cioè io chiedo a ogni cittadino di non girare armato, tolgo le armi al cittadino singolo e armo un esercito e armo la polizia perché nessuno sia lupo per l'altro uomo. Nessun uomo sia lupo per l'altro uomo. Lo Stato moderno ha il monopolio della violenza. In alcuni luoghi non ce l'ha. quando si arriva all'unità d'Italia in Sicilia è difficilissimo tenere l'ordine pubblico. Le forze pubbliche sono pochissime. Non ci sono tutti i soldi per tenere un esercito o dei poliziotti. Per cui lo Stato indirettamente, compresi i piemontesi, fanno affidamento su queste persone per tenere l'ordine pubblico. All'epoca c'erano delle strutture private di guardie campestri, di guardie a cavallo, eccetera, eccetera, che erano gestite dalla prefettura, dal sindaco e dai mafiosi. Cioè, loro, sia per il basso, sia per l'alto, tenevano l'ordine pubblico e all'inizio accompagnavano i potenti politici dal punto di vista elettorale. Quindi gli garantivano l'ordine pubblico nella proprietà privata e nelle città e gli garantivano i voti. All'inizio, senza che loro votassero, perché sapete che fino, grosso modo, al 1882 votava il 2% della popolazione e si votava soltanto se eri in grado di leggere, scrivere, di fare la firma e se avevi un certo reddito. Dopo, direttamente, i mafiosi vanno anche a votare. Allora, il potere quando non è legittimo, cioè quando non è un potere delle istituzioni, quando diventa un potere riconosciuto, quando lo riconosce da una parte il popolo e quando lo riconoscono le classi dirigenti. Cioè, nessun potere si legittima se non è legittimato da chi rappresenta il potere costituito. il problema delle mafie storicamente è che le classi dirigenti al posto di contrastare le mafie in qualche modo le hanno assegnato un ruolo di tutela di ordine pubblico e di accompagnamento dei loro interessi. Se non ci fossero queste due cose, tutte le altre forme criminali vengono sconfitte. I briganti avevano più consenso popolare dei mafiosi e sono stati sconfitti. I banditi, chiunque si oppone al potere costituito nella storia non ha fatto mai grande fortuna tranne nelle rivoluzioni. Da Spartaco in poi la violenza che si oppone al potere viene sconfitta. L'unica violenza che ha avuto lungo corso nella storia è quella mafiosa perché formalmente non si contrappone al potere costituito ma cerca alleanze con esse. Dicevamo dicevamo prima che è importante capire quali sono le condizioni e anche gli eventi storici che fanno sì che creino e prosperino delle organizzazioni mafiose. A un certo punto tu dici una cosa molto forte e andiamo un po' più avanti nella storia arriviamo alla seconda guerra mondiale tu dici se non ci fosse stata la seconda guerra mondiale e l'arrivo degli americani a Napoli alla fine della seconda anzi alla fine non alla fine prima della fine del 43 se non ci fossero state la seconda guerra mondiale e l'arrivo degli americani a Napoli forse le cose per questa città sarebbero andate diversamente perché anche qua è così importante? Ma questo ha a che fare con tutta la nostra storia nazionale cioè intanto per chi è siciliano o ha origini siciliane il confronto tra Saverio Lodato e Salvatore Lupo è molto importante io in linea di massimo sono con Salvatore Lupo cioè non credo che gli americani avessero scelto la Sicilia perché c'era la mafia gli americani dovranno decidere se sbarcare in Sardegna o in Sicilia se sbarcano in Sardegna spezzano a metà diciamo il fronte dei nazisti però in Sardegna è isolata loro temono di restare intrappolati perché vanno in Sicilia perché hanno notizie che in Sicilia l'opposizione al fascismo è molto forte cioè la gente non ce la fa più e sanno che avranno un consenso molto alto quindi scelgono la Sicilia per ragioni come dire di consenso d'accordo risalgono poi che errore fanno mettono a capo di molte amministrazioni i mafiosi perché i mafiosi erano stati in galera col fascismo e gli inglesi soprattutto ritengono che ogni antifascista anche se è un criminale deve essere valorizzato fanno questo grandissimo errore soprattutto gli inglesi poi via via quando il fronte internazionale diventa di un certo tipo la politica americana meglio mafiosi che comunisti e quindi da questo punto di vista la Sicilia entra pienamente dentro l'atlantismo anticomunista quando risalgono alla provincia e arrivano a Napoli la cosa più singolare quando uno chiede come è nato il contrabbando a Napoli oppure come è nato il contrabbando a Forcella alcuni pensano per esempio che Forcella storicamente è sempre stata la zona di contrabbando per eccellenza si diceva che se volevi un carro armato andavi a Forcella e ti trovavi un carro armato perché gli americani mettono a Forcella i loro i loro magazzini dei viveri gli americani avevano una dotazione di sigarette e di viveri superiori a quello che gli bisognava ogni giorno e quindi sono gli americani a cominciare il contrabbando e cominciano a Forcella per cui le persone vanno a Forcella perché sanno che troveranno le sigarette che gli americani nel frattempo avevano venduto si può dire storicamente che senza gli americani non avrebbe sì si può dire ma questo vuol dire che hanno sbagliato gli americani a venirci a liberare assolutamente bisogna mettere le due cose in maniera distinta bisogna ricordare che così come alcuni mafiosi accompagnano l'esercito americano in Sicilia ma non ne determinano diciamo l'invasione Vito Genovese che è il vice di Lachi Luciano che nel frattempo è il vero capo di Cosa Nostra è l'interprete di Charles Poletti cioè colui che amministra l'amministrazione civile delle truppe alleate quindi noi abbiamo vicino al capo civile abbiamo Vito Genovese cioè il vice che fa Vito Genovese Vito Genovese insieme ad un altro mafioso italo americano decide di avere il monopolio sui medicinali dell'esercito americano e soprattutto si impadroniscono della morfina quindi il primo traffico di morfina avviene in Sicilia e in Campania grazie ai buoni uffici di Vito Genovese quindi in questo senso dico l'esercito americano ha aiutato alcune attività che altrimenti non sarebbero state possibili per cui ecco io invito tutti quando si parla del crimine quando si parla di mafia di non pensare che è la mafia a spiegarci la Sicilia che è la camorra a spiegarci la Campania o Napoli è la storia della Sicilia insieme alla storia d'Italia è la storia di Napoli insieme alla storia d'Italia che ci spiega i fenomeni criminali cioè non invertiamo le parti vogliamo capire perché la Sicilia ha avuto la mafia non dobbiamo pensare che i siciliani sono mafiosi ma dobbiamo vedere l'intreccio tra la storia della Sicilia la difesa assoluta della proprietà terriera in quel modo ma tutti coloro che vengono eletti in Sicilia sono funzionali al governo italiano cioè Giolitti disprezzava i proprietari terrieri siciliani assenteisti ma senza i voti dei siciliani non avrebbe avuto il consenso che gli era necessario in Parlamento quindi la storia d'Italia è fatta anche dal consenso che i mafiosi hanno dato ad una parte politica diversa nel tempo se noi la guardiamo solo nell'ottica siciliana non comprendiamo se la guardiamo solo nell'ottica napoletana non comprendiamo è l'intreccio della storia del sud nella storia d'Italia che ci spiega la mafia d'altra parte se fosse stato solo un problema dei meridionali non ci spiegheremo perché ne stiamo parlando oggi nel nord se uno va a leggere gli atti di un qualsiasi tribunale del nord dal punto di vista dell'omertà dal punto di vista delle parole spese contro i mafiosi da parte di imprenditori resterebbe deluso oppure se guardiamo alla storia dei sequestri di persona non c'è stato un sequestro di persona che si è risolto con la collaborazione di un familiare e io lo capisco se avessi un familiare sequestrato difficilmente mi metterei a collaborare per paura ecco perché quello che è un sentimento di paura per le persone del nord in Sicilia o in Campania è omertà perché chiamiamo con nome diversi due fenomeni uguali la paura è un sentimento umano quando poi dei delinquenti non sono non finiscono in galera quando fanno determinate cose ricordiamoci che fino al processo Falcone in Sicilia 1861 1986 10 ergastoli per mafia attorno a 10 15 mila morti ammazzati dal 1986 in poi ne abbiamo avuto quasi mille quindi l'impunità dei mafiosi che crea la paura e l'omertà quindi ecco se vogliamo capire le mafie non dobbiamo leggere solo libri di storia del crimine dobbiamo fare il possibile io mi sono sforzato di farlo di leggere insieme la storia di quel territorio con la storia d'Italia ti faccio un'ultima domanda storica e poi andiamo all'oggi come mai ritieni anche qua un po' controcorrente che la camorra sia così forte e potente oggi ne avevo tante altre domande storiche ma non possiamo riproporre la mappa 1 1 del libro però ecco dice un'altra cosa molto forte la dice a proposito del terremoto del 1980 in Irpinia anche qui c'è una sorta di luogo comune ma la camorra se la vera era una mafia così un po' sbruffona ma poi sono arrivati i soldi del terremoto del 1980 ed è diventata la camorra forte di oggi questa cosa è vera secondo te anche qui dice una cosa molto forte col terremoto del 1980 il mercato politico locale diventa criminogeno sì in fondo in Sicilia in Sicilia il sacco di Balermo avviene tra gli anni 50 e gli anni 60 il sacco di Napoli avviene negli anni 50 e 60 a Napoli non è la camorra a determinarlo in Sicilia sì la camorra interviene 20 anni dopo l'andrangheta avviene a ridosso della costruzione della Salerno Reggio Calabria se ci fate caso le affermazioni delle tre mafie nel secolo dopoguerra hanno tutti a che fare con i lavori pubblici hanno a che fare col sacco di Palermo hanno a che fare con la costruzione del centro siderurgico di Gioia Tauro e con la costruzione della prima Salerno Reggio Calabria hanno a che fare con il terremoto del 1980 cioè in territori in cui l'unica attività diciamo di carattere imprenditoriale e quello legato all'edilizia è molto probabile che si inseriscono fenomeni criminali perché l'edilizia vive attorno all'autorizzazione pubblica l'edilizia è un'economia particolare un'economia a forte conduzionamento politico amministrativo l'edilizia ci dimostra come i sistemi clientelari i sistemi mafiosi non abbiano dei come dire dei confini ben netti e precisi al nord non c'è l'edilizia certo ma l'edilizia non è l'esclusiva attività produttiva industriale quando in alcune realtà è solo l'edilizia l'attività industriale è molto probabile che lì si forminano fenomeni mafiosi perché fare l'imprenditore edile non comporta molta capacità di investimenti molte capacità tecnologiche perché l'edilizia è a bassa innovazione tecnologica e ad alta presenza di mano d'opera cioè si può diventare imprenditore dell'inizia da un giorno all'altro come lo sono stati molti camorristi hanno comprato un camion hanno comprato un come dire quelli che uno scavatore e sono diventati così è successo nel 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 terremoto e così sta succedendo in molte realtà del nord dove gli indranghetisti soprattutto sono molto presenti nel settore del movimento terra anche con prezzi con prezzi più bassi quindi per quanto mi riguarda se dovessi dire una società industriale una società a forte caratterizzazione industriale è in grado di tenere a bada le mafie rispondo sì nel senso che è più facile in una società in cui in cui uno poi quando viene toccato in qualche modo non vuole che in qualche modo non vuole che laddove invece l'economia è l'economia è il controllo della spesa pubblica è più facile che il mafioso si trasformi in imprenditori di genere non ho mai visto un mafioso fare delle un mafioso fare delle non li ho mai visti loro operano in settori dell'economia operano in settori dell'economia che hanno bisogno dell'autorizzazione pubblica dove già fanno vendono a fanno vendono a e quindi quando tu hai quando tu hai vendendo l'edilizia fai più difficoltà a difendersi dalla in Sicilia per anni l'economia principale è stata l'edilizia a Napoli per anni l'economia principale è stata l'edilizia in Calabria con tutto ciò che ha comportato l'economia principale è stata l'edilizia laddove succede che le attività economiche ruotano attorno all'edilizia c'è un qualcosa che è esposto strutturalmente al dominio malavitoso quindi io penso che le camorre e le mafie sono una conseguenza della retratezza meridionale non sono una causa non sono le mafie a determinare la retratezza del sud ma è stato il modo in cui il sud è stato trattato nel corso di questi anni in cui non si è scelta la strada della industrializzazione seria del mezzogiorno che ha favorito quello che è avvenuto cioè in settori parassitari dell'economia è più facile che i mafiosi si inseriscono e provino a dominare beh allora veniamo veniamo all'oggi tra l'altro per chi c'era stamattina che abbiamo ricordato la relazione di Carlos Muraglia sulla mafia Milano e Lombardia ed era uno dei primi documenti che già nel 91 92 diceva che soprattutto nell'interland milanese l'andrangheta la mafia lavorava molto nel movimento terra nell'edilizia che qua magari meno legata ai lavori pubblici ma più all'espansione urbana infatti è molto legata all'edilizia privata mi è capitato di andare in giro per l'interland milanese con un personaggio che aveva lavorato molto con i costruttori anzi con gli operatori edili dei clan e mi diceva ecco l'Ikea l'abbiamo costruita noi ecco Decathlon l'abbiamo costruita noi eccetera eccetera questo poi magari verrà spunto dalla registrazione e allora veniamo finalmente all'oggi poi magari apriamo a qualche domanda perché torniamo all'affermazione iniziale sulla potenza della camorra oggi che ha sopravanzato cosa nostra che rivaleggia con l'andrangheta allora noi veniamo da un po' di anni in cui la camorra è stata solo per noi opinione pubblica casalese e effettivamente ci dava l'idea di una di una camorra molto potente con questi personaggi Sandokan gli Zagaria insomma un'epopea poi che è diventata anche per certi versi pop Gomorra eccetera eccetera con l'autore di Gomorra in fuga comunque quindi ci dava l'idea di una camorra pericolosa quanto una cosa nostra che aveva armi aveva soldi aveva inzeppato di rifiuti tossici un territorio cioè ecco un'idea tant'è che sotto titolo di Gomorra il sogno del viaggio nel sogno di dominio della camorra mi sembra che sia vado a memoria che però questa è nel 2007 2008 eccetera eccetera poi abbiamo avuto un po' la grande stagione di scampia cioè scoprire il fatto che le organizzazioni camorristiche avevano trasformato un intero quartiere nel più grande mercato ce l'ho aperto quindi insomma ancora qualcosa che ci dice che ci dice comunque di organizzazioni intraprendenti potenti in grado di fare tanti tanti affari oggi se dobbiamo pensare da profani diciamo da lettori dei giornali leggiamo che a Napoli ci sono sostanzialmente bande come dicevo all'inizio bande di ragazzini anche molto fluide molto mobili bosche dur ragazzini 18 19 20 21 anni una violenza un uso della violenza non solo inaudito ma anche come dire irrazionale ma molti muoiono molti muoiono ci sono dei casi anche raccontati qui si muore ammazzati a 20 anni si viene scalzati a 20 anni eccetera insomma se io vedo questa cosa qua non mi dà l'idea di una mafia particolarmente se la rapportiamo al classico bosca labrese che in aspromonte di rime con sottile intelligenza le controversie di mezzo mondo con il boss di cosa nostra passato e presente che tratta con l'alta politica con un graviano che manda chissà quali messaggi no? ma allora che rapporto c'è tra questa camorra quasi più un problema di ordine pubblico oddio non so neanche se definire la camorra e la camorra di cui parli tu che dici oggi è così potente ci aiuti a capire? sì intanto ci sono i dati se prendiamo i dati del ministero degli interni dal punto di vista della produzione di ricchezza criminale la camorra viene al primo posto se parliamo del numero di morti ammazzati la camorra è al primo posto se lo facciamo in rapporto alla popolazione sono i calabresi al primo posto per morti ammazzati ogni 100.000 abitanti se parliamo di numero di clan i clan i clan della camorra sono al primo posto se parliamo di relazioni internazionali nel 2011 Barack Obama firmò un documento sui pericoli della società americana la camorra napoletana era al quarto posto dopo i narcotrafficanti la mafia russa adesso non ricordo l'altro non era conteggiata nell'andranchi o nella mafia siciliana se prendiamo l'indice di criminalità mafiosa è un indice che è fatto scioglimento dei consigli comunali numero di condanne numero di arrestati eccetera eccetera l'indice di mafiosità della campagna è superiore a quello della Sicilia e a quello della Calabria che cosa vuol dire questo vuol dire che dopo la fase stragista della mafia siciliana sono emerse due mafie che erano rimaste un po' sotto traccia quella calabrese e quella e quella campana perché rispetto alla mafia siciliana hanno occupato un ruolo fondamentale nel traffico internazionale di roga la mafia siciliana che ha sfidato apertamente lo Stato attraverso numerosi delitti politici ha avuto anche una risposta che in qualche modo ne ha scompaginato almeno il modello corleonese d'accordo che cosa succede nei sistemi criminali nei sistemi criminali se tu hai un sistema piramidale come è la mafia siciliana cioè c'è una specie di capo naturalmente non è un capo come ce lo immaginiamo che comanda su tutti ma diciamo è il primo interpares d'accordo quando tu scompaggini un sistema piramidale il sistema piramidale prima di ripresentarsi e riprodursi ha bisogno di tempo perché c'è una rigidità molto forte nei sistemi orizzontali in cui non c'è un capo riconosciuto ma ci sono come dire tanti clan che hanno abbastanza autonomia se viene arrestato un capo se ne riforma uno immediatamente cioè i sistemi a rete criminali rispetto agli sistemi piramidali sono più in grado di rispondere alla repressione della polizia è quello che è successo in Italia cioè finito lì ne Provenzano non è che è finita la mafia perché la mafia è una delle poche organizzazioni criminali al mondo che non si esaurisce in una persona o in un gruppo è un modello che continua al di là di chi lo rappresenta in quel momento questa è la forza del modello del modello mafioso ma quando tu colpisci Riina e Provenzano quel modello rigido ci mette tempo per riscoprire le gerarchie i sistemi gerarchici hanno una loro forza una loro compattezza ma quando sono colpiti hanno più difficoltà a rigenerarsi i sistemi a rete invece sono sistemi nei quali se finisce un capo immediatamente tu lo sostituisci soprattutto perché a Napoli essendo una criminalità urbana ha alle spalle un esercito di riserva cioè paradossalmente quando c'è un intervento forte delle forze di sicurezza su sistemi come quello napoletano più ne metti in carcere più c'è una lotta per la successione immediata perché a Napoli sono tutti come nell'esercito di Napoleone ognuno pensa ad avere il bastone di maresciallo quando è soldato e quindi uno pensa di poter fare il capo mafia a 18 anni e nessuno in Sicilia penserebbe mai di diventare capo mafia a 18 anni quindi i sistemi a rete sono dei sistemi che si riproducono più facilmente se poi naturalmente hanno un retrotello forte aggiungiamoci un'altra caratteristica che è la caratteristica che non ha la mafia la mafia di Riina non coincide con le come dire le attività economiche della mafia Riina è il capo della mafia ma non è detto che è il capo di tutte le attività economiche della mafia il sistema mafioso e il sistema economico della mafia sono due cose distinte d'accordo la famiglia di Corleone è la famiglia mafiosa e poi ci sono gli affari dei Corleonesi nella camorra napoletana il clan che fa violenza e il clan che fa affari sono la stessa cosa cioè nel senso il clan camorristico è caratterizzato innanzitutto dalle attività economiche che svolge quindi si può dire che il sistema camorristico è molto simile ai distretti industriali cioè ognuno copia quello che fa la fabbrica vicino e si fanno concorrenza in questo modo naturalmente fino a quando non si ammazzano tra di loro per uno scontro quindi noi abbiamo un modello criminale che si sta affermando nella camorra napoletana che il procuratore Melillo più volte ha chiesto di studiare alle università in maniera più approfondita perché somiglia molto al sistema a rete del capitalismo contemporaneo guardate che conclusioni arriviamo quindi vuol dire quindi vuol dire che nel sistema di concorrenza del capitalismo le organizzazioni a rete hanno maggiore forza sta avvenendo la stessa cosa nel mondo criminale cioè quella che sembrava una criminalità secondaria frantumata sgarrupata si è dimostrata invece più in grado di aderire a tutte le maglie dei traffici illegali cioè hanno una scioltezza nel passare non so dal produrre bandiere dal produrre gadget a fare l'investimento in Romania perché sono più sciolti non hanno bisogno di fare il consiglio d'amministrazione per dire chi deve fare questo e quell'altro cioè l'organizzazione criminale corrisponde con l'organizzazione economica questa è la forza della camorra in questo periodo per cui grazie per cui oggi va studiato il modello camorristico io non sono tra quelli che dice la mia mafia è meglio della tua perché tra gli storici a volte non dobbiamo renderci ridicoli nel dire io ti dico che quella che studio io è più importante della tua io ti dico quello che sto studiando io attenzione ho conforti negli studi degli americani e negli studi della di Melillo e di altri che ci dicono qui si sta impostando un modello criminale che è molto simile è molto azzeccato è molto insieme intrecciato è molto intrecciato col sistema economico naturalmente non è che fanno chissà quali economie però oggi a Napoli hai dei sottoproletari che si sono diventati più ricchi dei più ricchi di Napoli cioè dei sottoproletari che diventavano ricchi senza passare per la legittimazione dello studio della legittimazione delle relazioni sociali o del lavoro è un caso unico tipico soltanto dei narcotrafficanti dell'America Latina perché anche il mafioso siciliano quando voleva far sapere che era qualcuno doveva avere una bella casa delle relazioni iscriversi a una loggia massonica iscriversi ad un circolo questi restano sottoproletari a Scampia a Ponticelli nei loro luoghi non cambiano casa non cambiano luogo e sono miliardari questo è quello che impressiona cioè naturalmente non mi fraintendete una specie di modello veneto applicato alla criminalità per cui andrebbe studiato da questo punto di vista mi obblighi a dire che c'è un'interessante parte sul ruolo degli imprenditori veneti nelle ruberie e nell'ascesa della camorra nel poster remoto ma ve lo leggerete sul libro guardo Pierpaolo e guardo Ester c'è tempo per qualche domanda dal pubblico assolutamente no cavolo mi spiace siamo andati lunghi ma perché veramente era difficile da domare questa grande mole di materiale allora non mi resta che raccomandarvi la lettura del libro di Isaia Sales storia delle camorre edito da Rubettino e vi lascio con un'altra delle tante frasi che mi sono in questo libro che mi ha colpito non l'assenza ma la modalità di presenza dello Stato favorisce la camorra altro luogo comune la mafia c'è dove non c'è lo Stato e a volte c'è invece dove lo Stato c'è ma fa cose distorte e distorsive grazie a tutti grazie a Isaia Sales grazie a voi che ci avete grazie a Isaia Sales grazie a voi che ci avete ascoltato grazie a voi grazie a voi grazie a voi